Ciao a tutti ragazzi, per ritrovati nel vostro mistafolpix, per ritrovati oggi su Modern Warfare 3 Oggi siamo in una mappa dominio, nell'indel qua, a meno credo che sia così perché il gioco è in inglese Non vado a sbagliarmi, fate qua che stanno già ammazzando Prendo questa che mi sembra, ok Da un tempo il gioco l'ho installato adesso quindi devo, come dire Devo ancora sistemare alcune impostazioni Oh mio dio, ah bastardo Ok va bene, allora F per responare, ok Mi devo ancora insegnare ragazzi, questa è la mia seconda partita che faccio su Modern Warfare Eh bastardo Vabbè mi devo, ragazzi datemi tempo eh Ragazzi datemi tempo, ok Voglio fare un po', oh mio dio come lagga Ok No, non l'avevo visto, scusatemi Poi sono belle stelle No, basta tu sei dietro, sto pezzo di merda uomo nero dei miei coglioni Adrenalina avevo Avevo l'adrenalina, che rabbia Comincia acquapace No, ma come cazzo entra Quanto cazzo ho dei pink, eh c'ho 152 dei pink, certo che Oh, stami Ah, l'ho ammazzato, si Si, 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 si Ok, ok, che serenze, sono un cazzo da bestia Oh mio dio, niente, piglia però questo con l'elicottero La kill cam, pezzo di me Ok Ma dai però Siete in merda Voglio vedere come cazzo mi ammazzo Ma vabbè Possiamente mi laggo un pochino, figlio di puttana Non se perché mi laggo No, mo da lui No Ma quanto cazzo sto facendo Ah, stami, 1-9 Da Ok Dai, non l'ho visto Console, headshot F Bastard Comunque Io so tipo qualcuno Silenzio Questo non è camperare, ragazzi Guarda, questo non è camperare Dai però Stami E quante ne passano con sto cazzo di cosa Boh Che partita nemmeno Che partita nemmeno Proprio così ve lo dico, tranquillo Sconfitta Ma me ne faccio un'altra Che mi interessa Bastard Ok Ok, deve essere molto più centrato A me ne sono arrivato Quarto, quarto posto Ok Domination Arshat Intel Comunque devo capire ancora bene come funziona So No, ho sbagliato No, ho sbagliato perché cazzo ho preso Ma vaffanculo Com'è quei Ah beh, no, questo è il mirino Che invece è me Io sempre questo usavo quando giocavo Spero che il ping non mi fotte Ah, via 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 Dove modificare un po' Adesso non è solo che l'inglese ci metterà un bel po' Ok, uno Vai Dai Vai, pezzo di merda Esci Ah, no Mi stavo spostando C'era quel pezzo di merda Accanto a me E' bastardo Ah, no No, no Siamo che certe volte si accovaccia Ma ti presenta quando uno si Più 500 Che significa il P500 Cosa ho fatto? Ah, non l'ho visto Ah, però quella Oh, oh mio Dio La granata Ah Dai Davanti Mettere qua davanti Ok, assiste Vabbè lo stesso Vai, vai, vai Ricarica, ricarica Amica Questa è quella lenda Vanti caricare Ok 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 Ah no, start, sono scarso di mira, occhi, vai vai vai, ragazzi lo scopete nei commenti che sono la mia, perché vi ammazzo, perché già lo so di esserlo, è inutile che me lo dite, non ci ho mai giocato a code, non ho mai giocato a code, questa è la mia prima volta che finalmente gioco, insomma gioco diversamente rispetto al primo, vai primo shift, corri posti, mille punti, perché mille punti, ma così, vai, dai, dai, no via via, mio dio, no non loggare, dai, dai, dove siete, dai, no no, bastardo, come cazzo mi avvisa? Dabbè, quello giocherà a code, da più, da più di me, quindi è normale che, eh dai, non laggare, è normale che, mi becchi il lato, no, 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 mi sono dimenticato i comandi, quelli che usavo a code, quindi, dio, santissimo sto giochi, come lo odio, che cazzo l'ha visto? ma quanto, che cazzo l'ha visto sto facendo? eh sta, 7, 7 e 3, che però c'è un bordello di ping, ah sta, 200 di ping io, mica posso giocare con sto ping, eh vabbè, le colpe arriveranno sicuramente prima, come vedo io, eh eh eh, se vabbè, e non neanche io lo sapevo proprio cosa volevo fare che cazzo è stato sto pezzo di merda? vabbè, hai bevuto a culo, pensatemi, dai però, manca ille, fatemi fare, le tre quelle sono fatte, dai, dai becca vai, porta a casa, beh vabbè però, 150, sono tornato, ho fatto l'assist ma anche io so come cazzo ho fatto l'assist vabbè non conosco le mappe poi, ho detto un'altra cosa, anche se questa mappa qua, mappa, questa mappa, anche, ah, 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 blanca troppo, blanca troppo, blanca troppo, vedete che lui era la, e io invece miravo la, cosa vi ho detto? è troppo, è troppo ping ok, ah, bastardo ok, ah figlio puttana, si ma qua la, la fine del mondo è succedendo devo allenarmi per diventare un poco più bravo, anche se credo ci siano già persone che si allenano ogni giorno 2.500 per cosa? 8 punti a me danno ah ah ah, assist, bastardo ah quello si era incantato, ah ah nooo, che bravo quello però dai dai mi resta qua a 3 secondi dai ah ah con lei si è coltella ah con la cosa si buttano questo tipo di bombe, ah le bombe cecanti, ok ho capito ho capito, non lo sapevo sta ah non ne ho più, pensavo che erano tipo infinite, ok 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 nooo dai però non l'ho mai caricato in vita mia c'è viene questo e mi ammazza così vieni puttana dai 5.17 ah quando dovrà sta partita oh beh venite ah vittoria, vittoria, vabbè raga ho voluto qua questo episodio ve lo pubblicherò così per l'interno non mi interessa dovete vedere quando faccio schifo a code mi allenererò molto in questi giorni non mi interessa comunque ci sono persone allenate comunque spero che magari vedendolo in inglese il gioco non vi dia fastidio sia lingua che come è scritto in inglese